La paura prevede inizialmente da informazioni condizionalmente esterne, ma col tempo finiscono per generare dentro la persona una sorta di giudice interiore che ci giudica da dentro. Quindi la prima cosa da fare per controllare questa paura, ripeto, mi riferisco a quella paura amplificata, non è una paura normale, quella esistenziale, è accettabile, quella che non corrisponde alla realtà, ma amplificata. La prima cosa che viene da fare è ridurre, o almeno dare meno spazio, meno importanza alle informazioni esterne. Questo possiamo già fare. Se, diciamo, la origine è solo informazioni esterne che poi vanno secondariamente a formare questo giudice interiore, meno, non dico completamente, ma meno spazio, meno importanza alle informazioni che ci arrivano giudizie che ci arrivano dall'esterno. Per non alimentare questo nostro giudice interiore, per non farlo gonfiare troppo. L'altra cosa che ormai questo si è ormai formato, si è ormai radicato dentro, nella persona, è affrontarlo, portarlo a coscienza, questo giudice interiore, è il primo passo per difendersi dal suo periodo, come lo chiamava Freud, e quindi dalla paura che deriva dal giudizio, dal nostro giudice interiore, è portarlo a coscienza e riconoscere quanto ogni tanto si è sotto attacco, perché ogni tanto questo da dentro attacca. E questo è forse una cosa più difficile, perché è difficile a causa dell'identificazione che ci porta praticamente a sentire che questi giudizi, queste provocazioni, le pressioni che sentiamo internamente, quindi gli effetti che producono tensione, colpa, indecisione, ma senso di mancanza di valore, no? Queste sono espressioni di noi stessi, di una parte di noi stessi. Invece non è così. Invece è qualcosa di esterno che si è radicato dentro di noi. E il giudice interiore, ripeto, non è, non siamo gli stessi, è un condizionamento esterno. Non si può parlare ai giudizi di informazioni esterni. Quindi il primo ostacolo è l'identificazione. È l'identificazione che ci permette di prendere le distanze. Perché pensiamo che tutti in queste sensazioni di non dare niente, di sensi di colpa, di tensione arrivano da dentro. Siamo noi stessi, invece è come così. E questo giudice interiore. Quindi ecco come, prima cosa è ricordare la coscienza, portarlo a coscienza. E queste sensazioni sono un effetto automatico e inconscio dell'attività del superiore. Sesso di colpa, vergogna, sentirsi sotto pressione, sminuiti, incapaci, contrazione energetica, proprio senso di non avere propria energia, tensione, rabbia improvvisa, confusione, paura, ansia. Sono solo alcuni dei sintomi possibili che possono generare da questo superiore che abbiamo, che si è formato dentro. Per più chiarezza abbiamo, con questi sintomi, ma cioè sarà la velocità con cui riconosceremo l'attacco del superiore, del superiore e lo possiamo, ci possiamo difendere, possiamo distaccarlo da noi. a questo processo di disidentificazione. Invece noi ci identifichiamo, ci dobbiamo disidentificare, capire che non siamo noi, non è vero, è qualcosa di stato da noi che ci fa sentire questo. che ci riconosciamo attraverso, cioè, vuol dire, guardandoci dentro, ascoltando, anche verso la orientazione organismica, ci sentendoci, proprio proprio sentire l'altra, vuol dire sentire proprio fisicamente, quindi col contatto col proprio corpo. grazie.